GM trattino basso supermercati trattino basso Catania trattino basso sequestro beni per un valore di 41 milioni di euro sono stati sequestri a persone vicine al clan Cappello Bonaccorsi di Catania. Gli agenti della squadra mobile e della divisione anticrimine della questura etnea hanno apposto i sigilli all'intero patrimonio aziendale di una catena di supermercati a Catania in provincia. In amministrazione giudiziaria finita la catena di 13 supermercati G.M. facenti capo a Giuseppe Guglielmino. L'operazione è il risultato di una delicata indagine patrimoniale svolta dal pool specializzato. Nelle misure di prevenzione è composto da poliziotti della divisione anticrimine e della squadra mobile. Negli ultimi mesi è stato sequestrato il compendio aziendale riconducibile a Guglielmino e anche le Societe di trasporti riconducibili a Mario Strano, che nel 2007 sarebbe transitato dai Santa Paola ai Cappello Bonaccorsi. Guglielmino Guglielmino Guglielmino